Quanto avrebbe risparmiato il Campidoglio se alcuni tra i suoi uomini non si fossero arruolati nell'esercito di mafia capitale? La Corte dei Conti ha quantificato un danno di oltre 20 milioni e 21 inviti a dedurre l'equivalente degli avvisi di garanzia. Stanno arrivando a persone che avevano col comune un rapporto di servizio da amministratori o da dipendenti pubblici o di società in totale controllo pubblico e intanto alteravano costantemente le normali regole di aggiudicazione degli appalti, spesso giustificandosi con la continua condizione emergenziale che loro stessi contribuivano a mantenere. Franco Panzironi, ex amministratore delegato di AMA, Giovanni Fiscon, ex direttore generale di AMA, Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Eurospa, Claudio Turella, funzionario del servizio giardini, Luca Odeven, ex coordinatore del tavolo sull'accoglienza per i richiedenti asilo e poi i politici, l'ex presidente del consiglio comunale Coratti, l'ex capo della segreteria di Alemanno, Lucarelli, l'ex presidente del municipio di Ostia, Tassone, gli ex consiglieri comunali Ozimo, Pedetti, Tredicine, l'ex capogruppo PDL in consiglio regionale Gramazio. In combutta con la crema del mondo di mezzo, Buzzi, Carminati, Testa, hanno fatto sì che loro e personaggi a loro riconducibili realizzassero affari per 90 milioni. Assistiti dalle relazioni del Ministero dell'Economia, dell'ex prefetto di Roma Gabrielli, del capo dell'anticorruzione Cantone, dalle informative della Guardia di Finanza, i PM contabili Minerva e Montella hanno calcolato un danno patrimoniale di almeno 9 milioni per la lesione del principio e delle norme a tutela della concorrenza, invece delle gare affidamenti diretti e per lo più inquinati. Altri 9 milioni rappresentano i danni patrimoniali da disservizio. La struttura municipale fu travolta da un terremoto amministrativo con conseguente diffusa paralisi e rallentamento della normale attività comunale, soprattutto nei settori maggiormente coinvolti dagli illeciti, servizi sociali e verde pubblico. Le conseguenze si sono protratte fino al 2015, con tutto tutte le procedure di gara sospese.